Ciao a tutti gli amici di Edifici di Paglia Italia, oggi sono in cantiere con un ospite e è venuto a trovarci per vedere la qualità di una casa in paglia che si può realizzare in pochissimi giorni, in questo caso in tre giorni. Presentiamo subito il nostro ospite, con chi siamo in compagnia? Siamo in compagnia di Guido Alberti. Ciao Guido, presentati pure. Ciao, buongiorno, sono Guido Alberti, ideatore di posaqualificata.it e mi posso dire di essere cresciuto praticamente a pane e finestre, quindi di base mi occupo di porte e finestre. In che modo me ne occupo? Ho iniziato tutto all'interno della mia azienda di famiglia, quindi lavorando all'interno dell'azienda di famiglia fino a quando un bel giorno ho capito di aver messo su un metodo che consentisse ai nostri clienti di ottenere i risultati aspettati, desiderati, in funzione delle loro esigenze e da un po' di tempo ho creato una rete di consulenti posaqualificata.it su tutto il territorio nazionale e che cosa facciamo con la nostra rete attraverso i nostri consulenti? Mettiamo nelle condizioni i nostri clienti di vivere meglio la loro casa grazie alle nuove finestre. Perché? Perché immagino voi tramite Nicola sappiate benissimo quanto sia importante il comfort all'interno di un'abilitazione ovviamente quel comfort passa anche tramite le finestre. Quindi ti ringrazio Nicola per avermi invitato su un tuo cantiere e complimenti davvero per tutto quello che fai. Grazie mille. Io ne approfitto perché oggi tu sei qui per scorcare una testimonianza di perché è così importante e progettare il foro finestra in una casa così performante come la casa in paglia. Cioè ti volevo chiedere quali sono quegli elementi che un committente deve richiedere al suo serramentista? Bene, allora di base io posso paragonare qualcosa quando quelle cose, seppur diverse, hanno una norma, hanno un riferimento, vale a dire delle prestazioni, quindi di sicuro io partirei da quelle che sono le prestazioni. Quando parliamo di serramenti ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi ci si guarda solo quello che è l'aspetto termico. Ora in questo caso specifico ovviamente non ci sono particolari esigenze dal punto di vista acustico ma anche l'acustica è di fondamentale importanza. Quindi di sicuro guarderei quelle che sono le prestazioni termiche e acustiche e poi non ci dimentichiamo una cosa nel senso che spesso e volentieri ciò che determina la scelta di un prodotto piuttosto che un altro sono le esigenze del committente quindi le esigenze del cliente finale che andrà a vivere quella casa. E soprattutto visto e considerato che le finestre non sono dei soprammobili nel senso che non sono delle macchine che io le acquisto quindi guardo le prestazioni poi le metto lì perché tanto è progettata per garantirmi quelle prestazioni. I serramenti sono un qualcosa che vanno posati, che vanno posti in opera. Quindi è vero che le prestazioni sono importanti ma è altrettanto vero che c'è una componente che spesso e volentieri viene sottovalutata comunque non considerata che è quella della posa in opera. Perché? Perché io prendo una finestra, quella finestra in laboratorio viene certificata da un ente terzo con determinate prestazioni, poi devo fare in modo che quella finestra all'interno della muratura o comunque in questo caso all'interno del telaio, se parliamo di una casa in paglia come in questo caso debba garantirmi le medesime prestazioni. E lì entra in gioco la progettazione che è un po' la stessa cosa che fa Nicola per ovviamente una casa nel suo complesso, nello specifico sul foro finestra. Dopodiché ovviamente tra la progettazione e la messa in opera ci sono di mezzo delle maestranze, quindi delle mani, e fare in modo che tutto quello che è stato progettato e verificato a monte poi venga realizzato in opera in cantiere. Quindi di sicuro è fondamentale, sono fondamentali quelle che sono le prestazioni del prodotto ma non ci dimentichiamo che le finestre vanno posate in opera, quindi diventa ancora più fondamentale il come vengono posate in opera. Perciò quando il consiglio è per un committente che si vuole avvicinare a un progetto di questo tipo cioè una casa ad alte prestazioni naturale, quando puoi scegliere il committente le finestre l'indicatore non è solamente il prezzo ma deve essere un po' il contesto che si sviluppa questo progetto il progetto appunto del foro finestra, perciò bisogna porre molta attenzione ai valori del seramento ma non solo agli aspetti tecnici e soprattutto alla posa in opera perché la posa in opera è molto determinante poi sul risultato anche dell'abitazione che andiamo a progettare e a costruire. Ricordo che quando si va a progettare una casa di questo tipo prima di tutto, prima di iniziare il progetto si va a definire quali seramenti poi andrò a mettere e sulla base del modello di seramento che andrò a mettere poi vado a progettare tutta la casa perciò finché non ho le specifiche tecniche del seramento non si parte dal punto di vista progettuale di un foro finestra, di una porta finestra, di un seramento quali sono gli elementi progettuali che sono importanti e che un committente che decide di fare questa avventura deve tenere conto? Di sicuro noi una cosa che facciamo attraverso i nostri consulenti sempre più spesso è una validazione termica di quello che è il nodo quindi attraverso un software andiamo a fare delle simulazioni agli elementi finiti che ci consentono di capire o di comunque di valutare quello che accadrà nel tempo su quel giunto di posa perché? Perché una delle problematiche sempre più ricorrenti all'interno di abitazioni soprattutto abitazioni molto prestazionali dal punto di vista termico e ovviamente è il problema della condensa all'interno dei giunti così come spesso e volentieri la formazione di muffa perché? Perché più l'involucro è prestante, più l'involucro è performante e più di conseguenza se ci sono anche delle piccole problematiche ovviamente queste problematiche vengono fuori quindi di sicuro chiedere maggiori informazioni su come sarà eseguita la posa in opera e ovviamente aiutarsi attraverso dei disegni, degli elaborati attraverso degli elaborati che poi vanno validati e quindi verificati in maniera tale che si possa fare una simulazione di quello che accadrà per scongiurare problemi di condensazione interstiziale piuttosto che eventuali problematiche di muffe perché per quanto possa sembrare una cosa assurda anche in costruzioni fatte di recente e molto prestazionali dal punto di vista dell'isolamento spesso e volentieri è un problema reale quindi di sicuro informarsi il più possibile a parte come verranno scelte quelle finestre ma in generale su come verranno installate e posate in opera e credo che in questo anche il progettista può fare la sua parte Sì, soprattutto il nostro lavoro è quello di decidere assieme e di guidare il committente nella scelta dell'impresa che poi andrà a posare il serramento che possa garantire il miglior risultato possibile anche negli anni non solo nel momento in cui si posa ma poi deve essere una posa certificata nel tempo questo è l'aspetto fondamentale come lo deve essere poi la casa come vedete alle nostre spalle Esatto Ok Guido, penso che per oggi abbiamo un po' definito quali sono gli argomenti gli aspetti che un committente deve tenere conto se vuoi un po' lasciarci le tue coordinate geografiche Allora, noi operiamo su tutto il territorio nazionale e per adesso abbiamo iniziato da poco prevalentemente nel nord Italia attraverso la nostra rete di consulenti comunque per trovare il consulente posa qualificata di zona a te più vicino basta andare su www.posaqualificata.it e nella pagina contatti ovviamente troverete tutti la lista aggiornata dei consulenti lavoriamo con un metodo che parte da un'analisi dopodiché si fa una sorta di report di tutte quelle che sono le esigenze e poi elaboriamo quello che è il nostro piano di posa qualificata.it dove è dettagliato tutto quello che andremo a fare a casa del cliente finale o comunque del committente quindi mi raccomando www.posaqualificata.it Ok, grazie mille per tutte le informazioni che hai potuto dare in questa puntata io vi saluto a questo punto vi ricordo che la mia casa di paglia è edificidipaglitalia.com mentre se sei un committente coraggioso che vuole investire in un progetto di questo tipo come puoi vedere qui alle spalle ti ricordo la pagina Facebook Committenti Coraggiosi dove all'interno committenti vecchi e nuovi si confrontano su come costruire e perché costruire una casa di paglia per oggi è tutto da Guido Alberti e da Nicola Pretti un grande saluto ciao ciao a tutti ciao